Contratto di solidarietà per 12 mesi con l'impegno da parte dell'azienda ad integrare economicamente ad ogni lavoratore la perdita salariale. L'accordo tra rappresentanti sindacali e Betafence chiude il tavolo istituzionale sulla vertenza dello stabilimento di Tortoreto. La proposta di integrare la perdita di salario in particolare ha trovato il favore dei sindacati che si dicono così ampiamente soddisfatti. L'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale ringrazia tutte le parti in gioco dall'azienda ai sindacati che dice hanno mostrato responsabilità e senso pratico evitando il licenziamento di 146 lavoratori. Una trattativa lunga durata diverse settimane ma sicuramente un epilogo positivo e importante per tutto il territorio perché un'azienda così importante rimane nella nostra provincia. Voglio ricordare che a luglio questa azienda aveva intenzione di delocalizzare il sito in Polonia, poi io mi sono insediato a fine ottobre in cui appunto ho avuto la delega alle politiche del lavoro e c'era il tavolo nazionale perché la competenza è del ministero ma anche lì purtroppo non si era raggiunto l'accordo ed è saltato il tavolo dopodiché io ho contattato direttamente i vertici dell'azienda, ho iniziato la nuova trattativa e devo dire che sono molto felice perché come dicevo ho avuto un epilogo positivo. Voglio ringraziare lo giocando i sindacati che anche loro hanno fatto un duro lavoro ma anche i lavoratori. Al termine dei 12 mesi di contratto di solidarietà l'azienda potrà far partire la ristrutturazione prevedendo la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi, situazione però di cui si parlerà il prossimo anno. Grazie a tutti.